eccoci eccoci qui di nuovo è una bellissima serata di fine estate siamo con lorenzo secondo episodio seconda puntata del dentro l'abbandono ci troviamo sulla collina di fermo monte cacciù guardate che spettacolare di panorama abbiamo nel secondo piano secondo piano rispetto a queste mostro edilizio questo abominio edilizio costituito da queste tre costruzioni forse quattro in cemento sono scheletri di cemento di cui sinceramente non si conosce né l'origine né la destinazione si parlava del vecchio del nuovo ospedale o di chissà cos'altro adesso invece sono state abbandonate da circa 30 anni e niente non c'è la possibilità di entrare all'interno altrimenti vero lorenzo sarebbe stato interessante e niente signori guardate comunque quello che accade tra il vedere la bellezza del panorama in secondo piano con le montagne sullo sfondo e la bruttura di questa struttura che forse sarebbe il caso di probabilmente demolire veramente uno spettacolo unico al mondo questa è la nostra regione guardate che roba ok ci vediamo per il terzo appuntamento a breve ci sarà una nuova uscita San Marco e qui c'è lorenzo saluto alla prossima